E' stato firmato il patto di amicizia fra i comuni di Abba Santa, Cagliari e Pavia in nome della comune devozione per Sant'Agostino. Presenti alla cerimonia, oltre agli amministratori dei tre comuni, anche i parroci di Abba Santa, della Basilica di San Pietro in Celdoro di Pavia ed il Rettore della Chiesa di Sant'Agostino di Cagliari. Ecco padre, vogliamo ricordare l'importanza che lega la figura di Sant'Agostino con la città di Pavia? Beh, è una figura che risale all'epoca Longobarda, quando il re Eliut Brando portò Sant'Agostino qui nella sua capitale a Pavia. Da allora Pavia è segnata da questa presenza culturale, spirituale, unica nel mondo, credo di cui dovrebbe la città di Pavia essere molto, molto fiera.